Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione davvero numerosissima e quasi in attesa. Io sono Renata Crotti, insieme al gruppo di lavoro comitato di San Altranco abbiamo organizzato anche questo momento. Dalla chiesa di San Salvatore e il monastero di San Altranco rappresentano due realtà del romanico padese di grande eccellenza. C'è il Naviglio Grande, anche lui è una bella derivazione del Ticino, quindi ci sono tante catture di acqua che riguardano il Ticino. Acqua molto buona tra l'altro. Venite un po' indietro che siamo tutti all'ombra. Sì, siamo tutti all'ombra. Previamente, io ho una formazione filosofica e psicologica, per cui di questo io adesso parlerò in maniera estremamente breve per non togliere spazio al nostro cammino. Sì, siamo tutti all'ombra. Sì, siamo tutti. 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 Sì, siamo tutti.